Siamo passati dal DNC alla DNV ed oggi la DNA. Sarà il secondo campionato d'Italia. Tutto è successo in brevissimo tempo, ci stiamo preparando al meglio, abbiamo costruito un gruppo di collaboratori sempre più numerosi e sempre più efficienti. La serenità ci aiuta, la nostra forza è stato il gruppo, il nostro slogan anche a seguito del terremoto sarà Uniti si vince. I sponsor locali ci hanno tutti seguito, anzi sono stati disponibili a darci un ulteriore apporto. Stiamo lavorando su un piano marketing nuovo, quest'anno le partite saranno trasmesse in diretta su Sport Italia. Rimanere in questa categoria l'anno prossimo può significare essere in DNV, quindi essere nel terzo campionato d'Italia. L'amministrazione comunale di Poggiurusco ci sta dando una mano enorme per poter ristrutturare e ampliare il palazzetto. Vogliamo quindi confermarci a questi livelli tutto il lavoro strutturale, organizzativo e amministrativo che stiamo mettendo in porto vorremmo che avesse un seguito in futuro.